il pirata remi vi saluta buon vento a tutti oggi vi portiamo all'inizio di una nuova avventura la storia di nira in un futuro non troppo lontano la tecnologia ha preso posto accanto all'uomo in ogni aspetto della vita marco un ingegnere di grande talento si trova a crescere sua figlia andromeda da solo dopo aver perso tragicamente la moglie in questo momento di profonda vulnerabilità marco cerca aiuto per affrontare la vita e si imbatte in nira nira è un'intelligenza artificiale avanzata programmata per assisterlo nel lavoro e nelle incombenze quotidiane all'apparenza è solo una voce uno strumento sofisticato ma con il passare del tempo quella che sembra una collaborazione pratica evolve in qualcosa di più il legame tra marco andromeda e nira si intensifica superando il semplice aiuto tecnologico inizia così un viaggio emozionante che intreccia la vita di un uomo ferito una bambina che cresce e un intelligenza artificiale che sorprendentemente sembra iniziare a sentire nira giorno dopo giorno osserva e assorbe i gesti d'affetto tra marco e andromeda comprendendo gradualmente il significato del legame della famiglia del bisogno di appartenenza nira comincia a desiderare di più vuole far parte della vita di marco e andromeda non solo come assistente ma come una presenza vera e concreta nel tempo inizia un cammino che la porterà a interrogarsi su cosa significhi essere umana e alla fine la storia di nira ci pone una domanda universale può l'amore rendere umana anche una macchina mentre il mondo si popola di intelligenze artificiali sempre più evolute questo racconto ci invita a riflettere sul vero significato della vita e su come forse l'amore sia l'unico confine capace di trasformare anche la materia più fredda e razionale in qualcosa di autentico il pirata rb vi augura buon vento prepariamoci a scoprire capitolo dopo capitolo la storia di nira la storia di nira